Ioandi, intanto raccontaci quegli ultimi cinque punti consecutivi tuoi e quel finale di terzo set che ha risolto la partita. È stato bello, vogliamo vincere questo set perché sennò eravamo difficili a giocare un 4-6, una partita così, no? Dobbiamo giocare meglio, secondo me. Abbiamo vinto, ora a me non ha giocato bene, quindi però con un'altra squadra più forte credo che non possiamo fare lo che abbiamo fatto nel terzo set. Però niente, abbiamo vinto tre punti, siamo felici per questo e seguimo la prossima. L'altra squadra più forte dopo la trasferta di Coppacev sarà Lube Civitanova, quindi già lì avrete un test importante che volete e forse dovete anche vincere per la classifica. Dovete non si dice mai, però proviamo. Prima pensiamo a Finlandia che è importante, dopo Roma in Italia. E sì, è una partita bellissima, una partita diretta con i team che gioca per il campionato, quindi dobbiamo allenare un po' di cose per fare bene la Civitanova. Grazie.